... Fermati laggiù, Barney! Venite qui a piedi! Qualche precauzione avita brutte sorprese, vero, Sonny? Ma qui sei tu il capo. E di che? Topo Manieri. Ho sentito dire che tu vuoi uccidere un po' di bianchi come me. Perché? Ti dà fastidio? No, ho neri o bianchi. L'importante è che mi paghino. Il carico dovrà essere sulla nave entro l'alba. Non è un problema. Ehi, l'ordine è incompleto. Sì, è vero, mancano un paio di stinger. Ma quelle sono le armi più importanti. Già, e poi sono quelle che ci costano di più. Si può sapere che diavolo sta succedendo qui? Non vi abbiamo forse pagato? Ehi, parlate con Kleiser. Le vende lui le armi, io le trasporto e basta. Certo, ma vedi, la nave salperà domani. Prendete qualcos'altro al posto dei due missili. I granati, i mortai, delle armi biologiche, ti servono? Di che si tratta? Guerra chimica. Cerca di sparare un paio di quelle pillole su una città e vedrai cosa succede. I due missili, amico. Gli Stinger. Quelli abbiamo ordinato, quelli abbiamo pagato e quelli adesso vogliamo. Ma questi sono del 1980. Allora? Allora. Ma dico, ci hai preso per una coppia di imbecilli. Sono stati in magazzino per anni. E con questo? Se non mi sbaglio, non c'è la data di scadenza sopra. Non si rovinano stando in magazzino. Ascolta, chi mi assicura che questi facciano ancora bang? Tu hai dubbi al riguardo? Già. E credo che sia un ragionevole dubbio. Non si rovinano. Tu hai dubbi al riguardo? Allora? Allora? Calma? Oh! Funciona, sì?